...dalla morta, al solito posto. Sbrigati! Oela! E allora? E allora... Senti Enzo, io mi sento proprio scarico per questo viaggio. È perché sa nervoso. Ma no, è che per andare dove, scusa? A Cracovia. Io non ci ho dormito tutta la notte. È perché sa troppo nervoso. Tiè, fumate la sigaretta, mi la dè. Ma no, sei tu che non capisci che quelli lì sono un altro popolo, sono un'altra razza. E poi la lingua, scusa, che cos'è che andiamo a dirgli noi a quelli lì? Mica te ce facevo così, ragazzino, eh? Ma non è vero, è che proprio io non sono più un ragazzino, non ho più l'età, ecco. Scusa, ma perché non ci vai da solo? Va beh, allora a sto punto mandiamo tutto quanto a monte, io mi vado a rispogliare, vorrei dire che il faragosto me l'ho passata solo a letto. Ma sta cosa ne era nata in due. No, io te l'avevo detto che ci poteva essere qualche problema. E vai con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo. Non arriviamo, ma i 5 e mezzo stanno a Borsana, è notte mattina, stanno a Cracovia, E poi scusa, abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto il vista, abbiamo fatto i calze di seta, abbiamo fatto i penne a birro. Ecco io, quelle lì li ho dimenticate. Ma per i birro non c'è problema, fino a Borsana stanno in tempo, sei proprio un ragazzino pieno di complessi, pieno di paure. Dici poi a lingua, a lingua, a lingua. Guarda qua la macchina, la pagata sola. Namo, Namo. Monta, tu a quelle amiche gli devi fare la conferenza. E vuoi riscaldare? Music. E vuoi far fumare? Smoke. E vuoi far beve? E vuoi sbracchiare? Sei matto! Monta, sei buono, mio mio, quanto, quanto! Ai mortacci, io, stai. Mi matto! Non ti possono vedere! Ma chi te vede? Ma se cazzo! Chi te vede? Opa! A secco, com'era qui a mitazione tua del treno? Ma te l'ho fatto un sacco di volte. Dai, fammampo, com'è rumore di quello che sta dicendo il treno? Forza, dai, io ti faccio il signore che piscia, Namo, dai. Dai, parti, vai. Ecco, che spinger pedale, vai. Mortacci, tu a questo se fai polacca si sbracano. E se voglio far bitè? Fai un po' bitè, dai, 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 dai. Mortacci, tu a te fai venire pure i dubbi, c'avec io queste possibilità. Ma tu c'è la presenza. Io c'erò pure la presenza, però queste cose ne so fa, Sergio. Sì. Sì, per quello l'altra sera mi è venuta una nuova, quella del tram che si carica. Sta a sentire, eh. Andiamo. Mortacci, tu a voi. Vabbia la valigia, dai, vabbia la valigia, andiamo. Muoviti. Uè, ma. E se dopo io mi innamoro? Anche la cosa ti innamori. Vabbia la valigia, va, faccio controllare i gommi e ti passo a prendere. Dai, briga, davanti. Andiamo. Amato, bro. Ok.